Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi che novità che sono state scoperte soprattutto nelle World Cup di Fortnite Sono stati annunciati dei premi che nessuno si aspettava! Come ho scritto nel titolo c'è un altro modo per ottenere il pass battaglia nella season 10 Proprio durante le World Cup! Nel video di oggi infatti ragazzi parleremo di questi nuovi tagliandi, chiamiamoli così Ve li farò vedere ovviamente da 2000 V-Bucks più il pass battaglia gratuito più uno spray esclusivo che adesso vi farò un po' capire come poter provare ad ottenere Parleremo anche dei regali che Epic Games ci sta dando in questi giorni e ovviamente una menzione d'onore alle World Cup che stanno esplodendo Assolutamente già un record in quella di ieri c'era la fase la semifinale della creativa se non ricordo male oggi invece ci sarà il Pro AM e la creativa Vi ricordo anche che potrete ottenere uno spray guardando la live in diretta su YouTube per almeno 20 minuti c'è gente che in realtà l'ha fatto anche per meno e l'ha ottenuto Ugualmente voglio prima però ragazzi ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone Grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live Ma prima la domandina raga ve la devo ve la devo fare ieri ci ho messo un'ora e mezza a mettere i cuori a tutti i commenti di qual è la vostra season preferita Quindi ragazzi domanda di oggi un po' più blanda voglio sapere qual è il regalo che ti piace di più dei quattro che ci regalano durante il compleanno di Fortnite Ovviamente ragazzi se la combattono secondo me il piccone e la copertura io Sono per la copertura mi piacciono troppo ragazzi fighissimo il piccone meraviglioso ma secondo me la copertura è troppo troppo bella Ma quindi ciancio le bande E bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare di un genio del male Abbiamo la faccia del nostro Tfue Tafu Tafano chiamiamolo Tafano Cosa cavolo è successo signori mi ha perso il biglietto dell'aereo C'è il rischio che il nostro Tfue non possa partecipare alle World Cup Mi fa il tweet qualche ora fa I missed my flag thanks Cioè si è perso in giro per il bordello che c'è in casa i biglietti per andare a New York per le World Cup Se c'è nel cervello le M&M's c'è nel cervello Ovviamente non è che ci sono proprio nell'ultimo periodo Negli ultimi giorni così tanti posti libri sugli aeroplani di New York Ovviamente ci sarà sicuramente un metodo per far arrivare questo povero cristiano alle World Cup E' lì che c'è c'ha l'ansia c'ha il panico E' lì in casa che non sa cosa fare che va avanti e indietro come se fosse in preda a un attacco di pazzia ragazzi Probabilmente riusciremo a vederlo di certo Il 28 alle World Cup però dobbiamo assolutamente fargli un applauso Insieme alle altre 1495 persone Are talking about this Gli stanno dando un po' insomma del coglionazzo Ma andiamo avanti ragazzi col prossimo argomento Grande TV Col prossimo argomento ragazzi Molto in più importante invece Le fasi della sfera Allora noi in realtà stiamo un po' sbagliando Vi spiego Noi ogni giorno vediamo delle modifiche alla sfera Le crepe sono più intense La luminosità è più accentuata Si muove di più Ma in realtà ragazzi Le fasi della sfera Sono solamente tre E da ieri siamo entrati nella fase 2 Voglio farvi vedere molto molto velocemente ragazzi Un Come si dice Un gameplay Bellissimo infatti l'avete vista sicuramente Questo è proprio ad alta definizione Che ci mostra come sia cambiata notevolmente Ieri la sfera Adesso probabilmente A metà della settimana prossima Dopo questa domenica In poche parole Vedremo la terza fase E secondo me sarà molto molto più instabile Ovviamente pronta ad esplodere E allora siamo già senza neanche lo slide Arrivati a questa immagine meravigliosa ragazzi E' pazzesco per la prima volta in assoluto Viene regalato Allora vi ricordate Circa un mesetto fa Vi avevo fatto un video Dove vi avevo scritto Tutti quelli che parteciperanno Alle world cup Riceveranno il pass battaglia Della season 10 In maniera gratuita Ragazzi Quella che state vedendo alle mie spalle E' l'immagine scannerizzata Di questo No Questo è quello che otterrete in game Come vedete Ve lo faccio rivedere in alta definizione Lo spray Ma non abbiate paura Perché questo spray Si può ottenere Il 28 Quindi ragazzi Non comprate da nessuna parte Se siete dei collezionisti Questo spray Perché il 28 Quando c'è la finale Lo otterremo insieme Alla copertura Ma come vedete di qua Season 10 Battle Pass Quindi Il pass battaglia Della prossima season Gratuito E ancora più avanti 2000 V-Bucks Questo è quello che si vedrà in game Quando li otterremo Queste ragazzi Sono le No dove cavolo Sono di qua Queste sono le carte Proprio Questo è già qualcuno Che è andato oggi Ieri Nella Nell'evento E ha ovviamente Mostrato in camera d'albergo Le carte E voi dite Xuder che Me ne frega Che tu mi fai vedere Le carte Di quelli che sono in America Si vocifera ragazzi Che Durante le trasmissioni Di sabato E di domenica Verranno Proposti Dei codici Il primo che arriva Meglio alloggia Se voi andate su twitter Alcuni Hanno già Regalato Dei codici Solo per Lo spray Ma Epic Games Si sta veramente superando E probabilmente Ha tanti di quegli Introiti Che i problemi Non ce ne sono E sembrerebbe Che durante le trasmissioni Delle world cup Verranno Messi in sovraimpressione Dei codici Che daranno Appunto Quello che state vedendo Nell'immagine Tra l'altro Volevo anche farvi vedere Una cosa meravigliosa Ragazzi Che è proprio Un piccolo spezzone Delle world cup Per farvi capire Di che cosa stiamo parlando Assurdo Uno stadio Dedicato Alle world cup Questo sarà tutto pieno Ragazzi Domenica Sarà tutto pieno Ed è veramente Meraviglioso Vedere come all'estero Diano così tanta importanza Agli e-sport Cosa che purtroppo In Italia Ma in realtà anche In maggior parte Dell'Europa Non accade Quindi ragazzi Tanta tanta roba Questi world cup Che ovviamente Vedremo insieme La finale In live Ma andiamo avanti ragazzi Con l'ultimo argomento Di oggi Che è proprio I premi Voglio ricordarvi ragazzi Le ricompense Ieri Ma anche oggi Dalle 18.30 Potrete Vedere Sul Sul canale ufficiale Di fortnite Il Pro AM Le finali Guardando 20 minuti Di pro AM Otterrete poi Direttamente In game Appena loggate Lo spray Un consiglio Quando andate ad aprire Il video Su youtube Guardate sotto Dove c'è I bottoni Quello condividi Tutto deve esserci Un diamante Con scritto Collegato Vuol dire che Il vostro account Di epic games È collegato Con l'account Youtube Di epic games Questo vi permette È importantissimo Perché con questo Potrete ottenere Poi una volta Loggati Il vostro Regalo Vi ricordo anche Che poi sabato Ci saranno invece Le finali Delle world cup In duos Interessantissime Da vedere E poi tutti Con gli occhi puntati Io credo Che toccheremo Voglio farvi un pronostico 50 milioni Di utenti Contemporanei Io credo Che in Quella In quell'occasione Domenica Ci sarà veramente Il mondo A guardare Il vero E unico Campione Di fortnite Io vi ringrazio Ragazzi Intanto bellissima La coppa L'avete vista Anche su instagram Per avere guardato Questo video Mi raccomando Un bel pollicione In su Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Alle 8 in live Ciao E non mi parte l'altro Dove parte l'altro Ha ha Dove parte l'itorentre Un bel pollicione Devono Noi ci vediamo